Speriamo di fare il meglio possibile dal primo anno e poi successivamente. Gli obiettivi sono ambiziosi, vediamo cosa dicevamo. A cui sa la serie D? A cui sa la serie D? Sì, sia serie D, però per la parte tecnica dovrebbe parlare. Per che giornale lavori? Al volo, ecco, perciò come anche una sua dichiarazione, visto che è una giornata importante, tra l'altro oggi c'è l'affigliazione, no? Sì, corretto. Esatto. State facendo le cose seriamente, ce l'ha detto l'altro giorno Fabrizio quando è venuto in diretta. Sì, sicuramente, anzi ci è costato un po' un quadro. Ma noi pensiamo che il Como abbia delle potenzialità in espresse in tutti questi anni enormi. Io, forse perché vivo negli Stati Uniti, ho anche una prospettiva diversa. E' un appassionato di calcio, Presidente. Lei, Ida? Beh, io sempre il calcio, essendo nato in Italia, il calcio ce l'hai nel sangue. Io sono sempre stato appassionato di basket e poi di calcio. Il calcio adesso negli Stati Uniti è lo sport più praticato a livello dei ragazzi fino a 18 anni. Anfatti anche i miei figli giocano a calcio. E da lì, poi, conoscendo vari personaggi del mondo del calcio, essendo stato invitato dalla Nazionale un paio di volte mondiali e europei, ho avuto il piacere di appassionarmi con di più. E avendo avuto questa occasione di entrare in una società di primo ordine come il Como, non potevo farmela mancare. Grazie. Grazie a lei. Grazie.